Vai Giorno! Vai Giorno! Vai Giorno! Vai Giorno! Dai! Vai Giorno! Uno! Quattro giorni a mano! Quattro giorni a mano! Cosa era? La puoi provare! Quattro giorni a mano! Vado! 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 Lui è lì! Vado! 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 Proviamo ancora, però, l'Iuglia, sui si chiara, la maneggiata, Ianna Velli-Giorgia. La finale lo ritroviamo ancora una volta nel cielo sprint, per cui è il mio serponino. Un po' di comparto, all'aggresso di curva, in questo momento, un punto inizionante, per il secondo fine, che mi ha raggiunto in questo periodo finale, al punto di stare l'intento, che mi ha raggiunto in questa parrucciata, e la parola che così vai dentro dal nostro traguardo, in questo estate. Possiamo immediatamente...